io sono il nano volante radioattivo oggi la città pagherà per come tratta quelli come me quelli con l'alitosi sento da qui la puzza maledetto ma quanto ti detesto hai preso le goccine oggi? ambrogio ho sognato che facevo cose io non faccio cose le cose capitano e basta certo signore come dice lei signore adesso prenda il nesquick e dorma un pochino